Professor Vittorino Andreoli, psichiatra di fama internazionale, ricercatore, scienziato, scrittore, non basterebbero i 24 minuti che abbiamo a disposizione per questa intervista per raccontare il suo curriculum, scelga lei come presentarsi. Sono innamorato dei matti, ho dedicato tutta la mia vita alla sofferenza mentale e quindi a quelle persone che facevano paura, tanto è vero che venivano chiuse dentro cittadelle della follia, quasi non potessero accedere al luogo della normalità. Quindi questa distinzione tra normali e folli mi ha sempre appassionato. Partiamo dall'inizio, studia da geometra, si diploma da geometra con brillanti risultati, però di nascosto inizia a studiare il latino, la matematica, il suo piano è prepararsi per sostenere la maturità scientifica e per iscriversi poi alla facoltà di medicina, mentre suo padre sognava per lei un futuro nell'impresa edile di famiglia. Sì, c'era mio padre, aveva un'impresa edile che già aveva sviluppato da quella del padre e quindi aspettava solo che entrassi io, perché poi era nel dopoguerra, l'attività di ricostruzione di un paese distrutto era molta e quindi lui aspettava questo. Io non sapevo deluderlo da questa sua attesa, ma però pensavo molto alla medicina ed ero sicuro che papà gli sarebbe dispiaciuto, ma non avrebbe fermato, perché vede la scelta di che cosa almeno progettare nella vita, indipendentemente dalle condizioni, dalle prospettive economiche, deve essere la passione. Ecco, questo deve valere anche per i giovani di oggi, nonostante le condizioni siano cambiate, bisogna proprio sentire un fascino per ciò a cui ci si dedica. Per me si era la medicina, ma era l'uomo, l'uomo che mi ha appassionato sempre il comportamento, come capirlo, cercare di andare dentro e allora poi, lei sa, la psichiatria e le psicologie cominciavano a parlare proprio di andare dentro, nel profondo, addirittura nell'inconscio, che poi era una definizione che sembrava paradossale, perché come si fa a definire ciò che non si conosce? Però allora mi affascinava molto questo. Le devo dire però che dopo moltissimi anni, da allora, sono ancora affascinato. E questa è una grande fortuna. Lei ama più la follia della normalità. Che cos'è per lei la normalità, se può esserci una definizione? Sì, ma vede, il comportamento normale o patologico dipende sempre da tre fattori. Da come siamo fatti la carne, la biologia, e cioè dalle caratteristiche dell'essere parte della specie umana. Ma non basta solo questo, dipende dalla personalità di ciascuno di noi. Ecco che allora da una classe che è quella della specie arriviamo all'individuo. E la personalità non è un dato stabile, ma è qualche cosa che continuamente muta sulla base delle esperienze. E quindi dipende, sì, dalla biologia, ma anche dalle esperienze, da come si è costruito ciascuno di noi. E non basta ancora anche un terzo elemento per capire il comportamento, che è la società, il luogo. Che non è solo quello fisico, ma è il luogo relazionale. Allora, vede, il normale o il patologico, il folle, dipende da tutte queste influenze. E siccome io sono di Verona e là era nato Lombroso, che parlava del folle nato, parlava della delinquenza come uno stato proprio, un marchio, una degenerazione dell'uomo. Ecco, con tutti questi elementi io ho cominciato a vedere l'uomo, sia normale, sia quello che veniva definito folle, in una dimensione diversa. Guardi, le posso dire qual è in fondo la formula che ho sempre seguito. Vede, il folle era sempre misurato sulla base del cosiddetto normale. Ed era folle per la differenza per ciò che non aveva rispetto al normale. Ciò che non aveva si chiamava sintomo. E quindi il folle era un insieme di una elencazione di cose negative. Ma io ho detto, ma è possibile che non ci sia niente invece di positivo? Ammettiamo pure i sintomi. Ma però che cosa c'è in questo? Perché è un uomo, non è un ammasso di sintomi. Ecco, e quindi io ho potuto vedere la follia anche attraverso gli aspetti positivi. La creatività, per esempio. Cercare di vedere l'uomo. E quindi vede tra normale e patologico. Una volta uno era per l'ombroso, uno era quello evoluto, mentre l'altro era un degenerato, era un matto, era qualcosa che non aveva avuto la evoluzione che tutti gli altri avevano poi ottenuto, che la specie avevano ottenuto. Ecco, degenerazione vuol dire essere fuori dalla generazione, essere altro. Ecco, io invece ho potuto vedere che nel malato di mente, il cosiddetto folle, ci sono tanti elementi che saranno distinti dal normale, ma tanti che il normale non ha. E quindi diventava una ricchezza. Naturalmente devo portarle un esempio, perché altrimenti sembra un principio. Pensi alla depressione. La depressione è molto diffusa. Lei sa che il 14% delle persone, in particolare poi le donne. Ecco, quindi c'è il 14% di persone che hanno avuto un episodio depressivo clinico, che non vuol dire la tristezza, l'episodio di malinconia per il lutto, eccetera. Vuol dire proprio un disturbo clinico rilevante. Ebbene, questa condizione depressiva è riccamente umana, perché è fatta da una persona che vorrebbe aiutare gli altri e si sente incapace di farlo. Non si sente incapace di fare anche le cose più banali. E per questo inoltre, oltre a sentirsi incapace, si sente in colpa per esserlo. Allora, lei capisce, è un uomo o una donna ricchissimi sul piano dei sentimenti, anche se magari sta seduta in un angolo e non si vuole muovere. Allora, mi pare di aver incominciato naturalmente con altri a rivedere il significato della follia. E oggi vedo così tanti elementi positivi che non riesco a vedere nel normale, che spesso è monotono, spesso è uno che usa cinque maschere, una maschera per casa, una maschera per quando si trova con gli amici, manca di coerenza. Quindi io trovo che la follia ha prima di tutto una struttura, cioè ha un proprio insieme, un proprio sistema. Si ricorda quella definizione cespiriana, no? C'è del metodo in quella follia, c'è qualche cosa di consistente. E quindi io trovo che i folli, certo vanno aiutati perché fanno fatica magari a relazionarsi con il mondo, ma però sono fortemente interessanti. Spesso però nel linguaggio comune, anche nel linguaggio dei media, nel linguaggio giornalistico, male e follia vengono associati. Se pensiamo magari a subito dopo un crimine ferato, piuttosto che una strage, sentiamo spesso parlare dell'opera di un folle, di una mente malata, invece male e follia non sono la stessa cosa. Innanzitutto le devo dire che si sono fatti confronti, per esempio, tra omicidi che siano compiuti dai cosiddetti normali e omicidi compiuti invece da persone che sono state poi definite folli. Non c'è una predominanza in un gruppo rispetto all'altro. Però è giusto quello che lei dice perché c'è un fraintendimento. Perché se uno è malato di mente non può essere definito un delinquente, un criminale, poiché per fare il male bisogna avere la volontà di farlo e di capire esattamente cosa si fa. Spesso la gente vorrebbe che un criminale fosse matto per forza. Ma sono due contraposizioni. Perché, ripeto, anche per tutti, non solo per il nostro codice di procedura penale, ma se uno è definito malato di mente non è responsabile e perciò non può compiere il male perché non ha la capacità di intendere quello che fa né di capire né di volerlo. Lei ha sviscerato i casi criminali più agghiaccianti anche della storia del nostro paese. Sostiene la teoria secondo cui omicidio e normalità possono convivere nella stessa persona. È proprio questo, no? Cioè, vede, anche qui, l'ho detto, l'ombroso è veronese come me. Insomma, ho fatto di tutto per bilanciare la cattiva fama che lui aveva messo. Cioè, lui diceva, se uno è matto sarà matto sempre e se uno è normale non può diventare matto. Io ho potuto dimostrare che ci sono dei casi di persone in cui non si trova alcun segno di follia che pure hanno compiuto dei criminali. Uno dei casi, forse lo ricorderanno, è il caso Maso. Quando io fui chiamato a fare la valutazione di questo, non trovavo nulla che fosse tipicamente proprio dei sintomi della follia. Pure aveva ucciso padre e madre in una maniera che era assolutamente da criminale, insomma. Lei da psichiatra cerca sempre una spiegazione al male, cerca sempre di entrare nella mente delle persone. Non esiste il male e basta, secondo lei? Vede, io credo che il male sia dentro l'uomo, cioè che l'uomo possa fare il male. Insomma, con le mani. Lei può fare delle carezze, ma può anche stringerle soffocare una persona. Allora, l'uomo ha di fronte questa alternativa di comportamenti che possono produrre il male per l'altro. E questo indubbiamente c'è. Però io trovo che sia dentro nell'uomo e le posso garantire che quasi sempre nelle persone che si sono comportate facendo il male io ho visto la possibilità che in condizioni diverse, seguito in modo diverso, avrebbe potuto non farlo. E poi mi permetta una citazione di Freud. Freud diceva che tutti gli uomini e le donne almeno una volta hanno pensato che ammazzerebbero qualcuno. Lui diceva che c'era proprio una pulsione, cioè una tendenza anche a eliminare il nemico. E pensi che lui sosteneva anche che lo poteva fare non tanto per rimediare a, che so io, ad una offesa, per mettere a pareggio i conti, insomma, ma farlo proprio perché, proprio per odio, per antipatia, insomma. Allora, dico, la pulsione, parliamo chiaro, la voglia di ammazzare potrebbe essere in tutti noi. Però doveva esserci, deve esserci questo cervello, la parte ultima, quella più sviluppata, che è quella della ragione, che mette il freno. E quindi ogni pulsione deve essere contenuta. Questo aspetto, vede, è molto importante e parla della nostra società presente, perché noi abbiamo l'impressione che ci sia una regressione e che l'uomo faccia sempre più fatica a controllare le pulsioni. E quindi siamo all'uomo pulsionale. Voglio questo e lo ottengo. Vedo una signora e magari uso la violenza perché, indipendentemente da rispetto, insomma. È un'impressione o sta succedendo? No, no, questa è l'interpretazione che io faccio. Che però anche qui non è che il male, è una perdita di civiltà. La civiltà era proprio il passare, lo diceva Gian Battista Vico, dice passare dal fatto degli istinti, cioè dalla brutalità, al controllo da parte della ragione. Se noi perdiamo i principi della ragione, sempre più siamo portati, guidati, non più dal controllo, ma dalle spinte. Siamo in televisione, c'è un eterno dibattito sul ruolo anche del cinema, delle televisioni, a volte ritenuti da alcuni responsabili di certe distorsioni della società. Lei rispetto a questo che cosa pensa? Che c'è una grave responsabilità e che noi fingiamo che tutto questo non sia importante, perché domina il successo e domina il dio denaro, non so come lo vogliamo chiamare, cioè questo imperativo. E allora, per esempio, tutto ciò che produce denaro non importa se ha degli effetti negativi sull'educazione, per esempio, del mondo giovanile, perché quelli sono i principi a cui noi diamo importanza. Però anche internet non è solo la televisione. Internet, per esempio, è certamente uno strumento tecnico straordinario, aiuta la scienza, però è anche uno dei rischi per portare, per facilitare il comportamento nel mondo giovanile e non solo che va contro le leggi che quindi fa il male. Lei, a proposito di internet, più precisamente parlando dei social, ha detto i social sono un bisogno di esistere perché siamo morti, creano una condizione di compenso per le persone frustrate. Sì, vede, adesso poi è una frase forte, però, vede, noi siamo portati alla relazione. La relazione è intersoggettiva. Relazionarsi vuol dire legarsi, è diversa il sentimento dalla emozione. L'emozione è qualche cosa che uno stimolo, produce una reazione, ma tira via lo stimolo, passa la reazione. Mentre invece il sentimento è un legame. C'è anche quando è assente la persona, perché l'ha interiorizzato, perché c'è qualcosa che è dentro di lei. Allora, questa è una società che sta perdendo le relazioni interumane, sostituite da che cosa? Da lei, dai social network, dai giochi che i ragazzi fanno con personaggi che non esistono, con nomi fitizi. Allora, io dico che le difficoltà nel mondo del concreto vengono compensate scappando dentro internet. Ora, io a internet do un grandissimo significato, purché aiuti la mente dell'uomo. Se la sostituisce, io non la posso accettare. Parliamo, lei ha pubblicato oltre 50 libri, 56 se non sbaglio. L'ultimo pochi mesi fa, Il silenzio delle pietre, nel quale elogia la solitudine come unica via per cercare se stessi. Sembra un paradosso? Oggi siamo poco soli, secondo lei? Oggi, ecco, vede, noi siamo collegati, siamo in rete, sentiamo rumori. Il più grande inquinante, certo anche i gas di scarico, ma sono le parole, non sappiamo più stare senza i rumori. Che cosa significa questo? Che il nostro cervello è diventato un sensore che deve sempre essere stimolato, ma non pensa in questo modo. Allora, io dico, se vogliamo ritornare all'uomo che pensa, e che vuol dire, prima di fare, bisogna pensare per valutare quali possono essere i rischi o il significato di ciò che facciamo, bisogna che riscopriamo il silenzio. Il silenzio è la solitudine, che non è l'abbandono. Io uso la solitudine, che vuol dire un tempo in cui è possibile pensare, ascoltarsi dentro, insomma. E quindi io credo che sia necessario che impariamo il silenzio, perché è solo dal silenzio che pensiamo. Io ho scritto un libro che si chiama La gioia di pensare, perbacco, perché nel pensiero si scopre che abbiamo la fantasia, che non c'è solo nel mondo virtuale. E quindi credo che sia importantissimo trovare, c'è chi fa il monaco, ma io non è questo che voglio suggerire. Dico, bisogna trovare degli spazi del silenzio. Il silenzio è ascolto. Ecco, è come il vuoto. Io ricordo un amico, Rubial, il grande fisico italiano, un giorno che mi spiegava il vuoto. Dice, ecco, vedi, il vuoto, che cos'è? È un pieno di cose che non riesci a vedere sensibilmente. E così, così è nel silenzio. Noi possiamo ascoltare di noi, scoprire dentro di noi delle cose che non pensiamo nemmeno di avere. In una recente intervista lei ha detto che la felicità oggi è il male più diffuso. Sì. Guardi, qui devo essere molto chiaro. L'incelicità. Anche, sì, ma anche il termine felicità lo sento spesso usare molto anche nell'ambiente cattolico. Io difendo la gioia, il gaudium. E voglio ricordare anche proprio in questo mondo, cattolico, che nei Vangeli si parla di gaudium. Non si parla mai di felicità. Parla di felicità comincia Platone, che poi dà un senso particolare. Allora, la felicità riguarda l'io, riguarda me. È qualcosa di soggettivo. Il gaudium, la gioia, riguarda il noi. Allora, come fa uno a essere felice se il proprio nipote ha qualche problema? Allora, la gioia invece è molto più stabile. È l'insieme. E mi deriva dall'altro e io posso dare qualcosa l'altro. Quindi è molto più di comune. È ora che parliamo di gioia e non di felicità. Quindi il consiglio è cercare la gioia, ma la felicità. Perché in famiglia, la felicità del padre rispetto, occorre la gioia che è un insieme. E questo mi ha fatto bene a chiedermelo. Perché quando io dico, non è che io voglia le infelicità, ma voglio la gioia. Perché la gioia è partecipare anche a quello dell'altro. La gioia è del noi. La felicità, io, io, io. Non se ne può più di io. Lei studia perennemente la mente umana, il cervello, ma non si può analizzare tutto, o no? Certo, no. Il cervello è straordinario. Lei pensi che dentro qui e dentro lì ci sono 85 miliardi di neuroni che sono collegati tra loro in una rete. Questa sì è la rete, non quella che teniamo in tasca. In una rete di cui sappiamo ancora poco. Però sappiamo che là dentro ci sono capacità incredibili. E io soffro nel vedere che la nostra civiltà, sia pure con tutte le difficoltà che ha avuto, le contraddizioni, che però stiamo perdendo i principi che la regolano. E diventiamo un po' così delle persone che vivono seguendo il nostro io. Allora io voglio essere felice, io, e tuo nonno, no? E il tuo amico, e tuo fratello. Quindi sarei più portato a parlare del noi. Lei sa che dal 1900, dopo il libro di Freud, l'interpretazione dei sogni, è nata la psicologia dell'io. Io sono, per dire che è tempo di fare la psicologia del noi. Io andrei avanti per ore, purtroppo non mi è possibile. La ringrazio davvero per aver risposto alle nostre domande, per aver condiviso e per averci regalato le sue riflessioni. Grazie davvero, professore Andreoli. Grazie, grazie. Grazie.